Continua a preoccupare la crescita delle varianti, in particolare del Covid in Abruzzo, in particolare nell'area di Chieti e Pescara, in attesa dei dati di oggi pomeriggio che fotografano però un trend del tutto preoccupante. Andiamo a collegarci con San Valentino in Abruzzo-Citeriore perché a San Valentino proprio nelle ultime ore si è acceso un campanello d'allarme a causa di una vera e propria situazione di cluster all'interno di una residenza per anziani che si è allargato anche a tutto il paese. Per le ultime novità in diretta il nostro Fabio Russoso. A te la linea, Fabio. Sì Carmine, buon pomeriggio. Ci apprezzione a San Valentino per il focolaio esploso nella casa di riposo Villa Citerius, qui alle mie spalle. In questo ospizio sono risultati positivi 25 dei 30 anziani pazienti, così come sono risultati positivi tutti e sette i collaboratori presenti nella struttura. Sono in isolamento ma da sottolineare che in un centro che conta poco meno di 1900 persone sono attualmente positivi al Covid 48 pazienti. Tre sono stati ricoverati in ospedale, uno dei quali in terapia intensiva. Immediate le contromisure adottate dall'amministrazione comunale. Questa mattina il sindaco ha attivato il centro operativo comunale. Il vice sindaco Lino Sciambra ha ribadito che nelle prossime ore sarà emanata un'ordinanza per la chiusura in presenza di tutte le scuole, così come si provvederà al piano di screening di massa per individuare gli asintomatici. Ma ascoltiamo direttamente le parole del vice sindaco. Siamo in compagnia del vice sindaco di San Valentino, l'avvocato Lino Sciambra. Esplode dunque il caso Covid nel suo comune. Nella casa riposo un focolaio che preoccupa tutta la cittadinanza. Noi abbiamo avuto notizia di questi dati ieri pomeriggio quando sono usciti gli esiti dei tamponi. In effetti sì, subito ci siamo come dire come amministrazione, ci siamo mossi, il sindaco ha avuto delle interlocuzioni con il direttore generale dell'ASL per chiedere immediati provvedimenti, ma soprattutto anche per valutare la possibilità di fare uno screening sulla popolazione e anche sulla popolazione studentesca. Scusate, c'è una comunicazione della Regia. Sì. Sono arrivati, ecco, parlavamo dei tamponi, è arrivata adesso la comunicazione che ci hanno accordato mille tamponi per cui adesso organizzeremo questo screening proprio, credo, nell'immediatezza. Già questa settimana potrebbe partire, signor Vicisindaco? Già questa settimana potrebbe partire e a questo punto si renderà necessario anche procedere all'aggiosione delle scuole perché, o meglio, alla sospensione della didattica in presenza proprio per consentire l'effettuazione di questo screening. Adesso valuteremo se riusciamo a farlo per tutta la popolazione oppure, quantomeno per la popolazione studentesca, gli insegnanti e il personaleato e le famiglie degli studenti. Avvocato, 25 dei 30 anziani ospiti positivi al Covid, così come i 7 operatori sanitari. Che lei sappia, erano stati vaccinati? Non ho notizia di questo, ma l'auspicio è che possa partire presto la campagna vaccinale. Noi veramente auspichiamo che la Regione possa in qualche modo darci notizia che su questi territori parta l'inizio della vaccinazione. Anche perché, al di là delle misure restrittive, in ogni caso, la gente è da un anno che combatte con questa pandemia, quindi è necessario partire con quella vaccinazione per ordinare il virus. Ritenete che possa essere una variante del Covid ad aver colpito questa zona? Non abbiamo certezza di questo, ma i nostri medici di base si aspettano che possa essere questa... che l'attuale circolazione possa essere riferita a qualche variante. Ovviamente aspettiamo i dati anche di questo, ma al di là di tutto, adesso occorre veramente rispettare le norme in modo stringente. Cioè bisogna muoversi solo per assoluta e stringente necessità. Non chiederemo anche le forze dell'ordine di fare dei controlli. Insomma, bisogna stringere un po' i denti. Ce la faremo, ce la faremo anche stavolta. A gennaio la situazione era ben diversa e con questo concludiamo, proprio perché dallo screening che avevate fatto erano risultati tutti tamponi negativi. Sì, a gennaio noi abbiamo fatto già una... proprio nel periodo dell'epifania, mi pare. Facemmo già un primo test e allora sul campione della popolazione nessuno risultò positivo. Oggi è opportuno procedere nuovamente a questo perché c'è questa circolazione ed è necessario capire la dimensione del problema, anche perché, insomma, se riusciamo a stanare, se riuscissimo a stanare eventuali asintomatici, insomma, sarebbe una grande... una gran cosa, una cosa molto utile. Queste dunque le parole del vice sindaco Lino Sciambra. Da San Valentino è tutto. Ringrazio Andrea Berardinelli per il collegamento. La linea può tornare allo studio.